Roma, quartiere Ardeatino, la chiesa costruita sul luogo del martirio di San Paolo nel complesso abbaziale delle tre fontane. Le tre fontane, tre come le volte in cui la testa decapitata di San Paolo cadendo rimbalzò sul terreno provocando tre sorgenti d'acqua, le tre fontane. Paolo, martirizzato a Roma nel nome della fede in Gesù. Lui, Saulo, che da ebreo fariseo si era convertito sulla via di Damasco durante le persecuzioni dei cristiani in cui era fortemente impegnato. Perseguitava i nazareni rimasti fedeli a Gesù dopo la sua morte in croce. Come egli stesso scrive negli atti, in tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture e a bestemmiare e infuriando all'eccesso contro di loro davo loro la caccia fin nelle città straniere. Paolo, un fanatico. Poi quella voce sulla via di Damasco. Saulo, perché mi perseguiti? Era un bestemmiatore, un persecutore e un violento, scriverà Paolo nella lettera a Timoteo. Con la conversione Saulo diventa Paolo, un uomo nuovo. Scriverà, nostro Signore Gesù Cristo mi ha reso forte e lo ringrazierà perché dirà, mi ha giudicato degno di fiducia mettendomi al suo servizio. Paolo fu decapitato sotto Nerone, imperatore di Roma negli anni 54-68. Dei, eh, 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 eh. eh, 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 De me, me E tu, tu, tu E tu, tu E tu, tu Grazie a tutti. Grazie a tutti.